L'imponente parrocchiale di Maria Vergine Assunta è stata avviata su progetti dell'architetto Planterie negli anni 20 del Settecento. I lavori furono presto interrotti e poi portati a compimento con la cupola e la facciata da Bernardo Antonio Vittone tra il 1761 e il 1770. I lavori furono conclusi nel 1792. Lo stesso Vittone fu autore del progetto del nuovo Palazzo Grosso, posto a fianco della parrocchiale. Ricostruito nel luogo dove sorgeva un castello a partire dal 1738, l'edificio è caratterizzato da un'importante decorazione interna, realizzata su impulso della contessa Faustina Mazzetti. Colta e sprovincializzata cultrice delle arti, Faustina commissionò nel 1790 i nuovi decori dell'atrio, dello scalone e degli appartamenti aulici ai pittori Rocco e Antonio Maria Torricelli, nel gusto più aggiornato, avendo a riferimento le descrizioni, da non molti anni pubblicate, delle antichità etrusche, greche e romane, rinvenute negli scavi della nuova scienza archeologica. Nella sala cinese, la prima realizzata, Faustina impiegò preziose tapezzerie con carte provenienti dalla Cina, che illustrano scene di vita quotidiana. Nel territorio di Riva sorge il santuario della Madonna della Fontana, nato come piccola cappella per voto dopo la peste del 1630, ricostruito negli anni 60 dello stesso secolo e nuovamente edificato su progetti dell'architetto di corte Luigi Michele Barberis tra il 1777 e il 1779.